CD Projekt Red l'ha fatto un'altra volta è meglio di Britney Spears infatti ha rimandato per l'ennesima volta qualcosa in cui aveva dato una deadline ovvero The Witcher 3 versione next gen che doveva uscire entro i primi sei mesi del 2022 entro il secondo quarter ovvero il secondo trimestre 2022 quindi entro giugno grosso modo non uscirà ma uscirà non si sa quando in realtà infatti non danno nessuna data futura ma diranno che arriveranno delle notizie in seguito quindi missano per l'ennesima volta una deadline su un gioco diciamo così che stupisce un po perché è la versione next gen di The Witcher 3 che è uscito nel 2015 un gioco che gira a più di 60 frame e tutto quanto su pc da sempre ovviamente dipende dai sistemi e non si capisce bene onestamente perché ci voglia così tanto tempo per fare una versione next gen quando sono riusciti a farla anche per cyberpunk che sicuramente era molto più problematico come pesantezza e tutto quanto purtroppo questa è l'ennesima dimostrazione di una situazione aziendale a livello di organizzazione appunto aziendale di task lavorative decisamente disastrosa ce ne siamo accorti chiaramente da quando è uscito cyberpunk nel 2020 tutti i casini le magagne che hanno fatto abbiamo fatto infiniti video su quella situazione e questa è una nuova dimostrazione di questo perché non riuscire a portare a termine una versione next gen di un gioco rodato rodatissimo finito finitissimo anche come pace tutto quanto sulle nuove console dove fondamentalmente la gente si aspetta solamente una versione 4k 60 fps niente più di questo ecco insomma conferma tutte le problematiche interne di CD Projekt Red questo non ci fa sperare un gran bene per il futuro quindi per l'eventuale espansione di cyberpunk o addirittura l'hanno annunciato loro stessi la nuova saga la nuova saga di The Witcher che uscirà fra molti e molti anni ecco non sono messi bene a livello di organizzazione aziendale evidentemente perché non riescono a calcolare delle deadline neanche quando si danno degli spazi temporali molto ampi perché appunto dire next gen The Witcher 3 esce entro il secondo quarto 2022 questo ce l'hanno detto praticamente un anno fa credo primavera scorsa quando rifacero per l'ennesima volta tutte le roadmap e tutto quanto ecco è palese è palese in CD Projekt Red ci sono enormi problemi organizzativi e purtroppo fino a prova contraria quindi finché non ci dimostreranno sul campo che li hanno risolti e questa è la situazione e questo che bisogna aspettarsi a CD Projekt su The Witcher 3 in particolare poco male io credo perché ormai sono passati così tanti anni che qualsiasi utente che voglia giocarlo in versione enhanced gli basterebbe avere un pc di media fascia ora chiaramente ci sono quelli che giocano solo sulle console quindi per loro in realtà è una pecca questa quindi non poter giocare il gioco a 60 frame con una grafica magari 4k comunque upscalata 4k su un gioco appunto al 2015 e 2016 con le espansioni però insomma è questo che passa il convento se siete solo giocatori console dovrete continuare ad aspettare però vi ripeto se avete un pc anche di mid range del 2022 diciamo così potete tranquillamente giocarci appunto su pc e avere quello che si vedrà magari fra altri sei mesi sulle console next gen purtroppo CD Projekt ha molto da dimostrare per il prossimo futuro e quindi mi sa che tutto quello che cercherà di annunciare da qui ai prossimi anni dovrà essere preso con tantissime pinze e con i piedi di super piombo perché è palese appunto qual è la situazione interna e non è migliorata non sembra essere migliorata particolarmente dal 2020 ad oggi ragazzi fatemi sapere un po cosa ne pensate anche voi di questa news che è uscita sicuramente avrete le vostre opinioni scrivetelo sotto nei commenti e ne discutiamo per il resto ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale sempre sul gaming a 360 gradi buona giornata come sempre un saluto e alla prossima ciao ciao